Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ciao ragazzi siamo qui in questo nuovo video per la crossbar challenge nel campetto Andiamo Ecco il primo tiro di Carmine ragazzi Parte il tiro Alto Secondo tiro di Carmine Ecco che parte il tiro Qua si prende la traversa, alto di poco Terzo tiro di Carmine ragazzi Il tiro e prende la traversa Doppia, doppia, doppia Doppia e mica vale Sì che vale doppia, vale o doppia Oh è doppia Vabbè quindi due punti per Carmine ragazzi Fai l'italiano Se prendo la traversa mi dovete mettere minimo 10 like sul mio canale Il più pazzo del mondo Vai primo tiro di Raffaele ragazzi Il tiro Qua si la prende L'ha presa L'ha presa Ah e non ho visto per guardare qua non si vede L'ha presa Ok Due punti per Raffaele ragazzi Non avevo visto Ecco secondo tiro Il tiro E la prende ancora Quattro punti per lui Terzo tiro di Raffaele Ecco il tiro Niente Quattro punti per lui Primo tiro di Michele ragazzi Ecco che parte Alto Ecco il secondo tiro di Michele ragazzi Ecco che parte il tiro Alto Ecco ultimo tiro di Michele ragazzi Vediamo se riuscirà a fare un punto Alto Zero punti per Michele Ragazzi ecco il primo tiro di Felice Mamma mia che puntone Alla Higuain Alla Higuain Ecco il secondo tiro di Felice Sul pallino Sul pallino Vabbè non fa niente Ancora non tira Felice Secondo tiro per lui Ecco il secondo tiro Fuori di poco Fuori di poco L'ultimo tiro di Felice ragazzi Ecco la Higuain Che puntone ragazzi Che puntone Eccoci ragazzi Siamo arrivati allo spareggio Tra Carmine e Raffaele Entrambi a quattro punti Ecco che parte Carmine Il tiro Alto Raffaele Che ha la possibilità di vincere il tiro Niente Si va d'oltranza Ecco che ci riprova Carmine ragazzi Carmine Il tiro Deve tirare ancora Raffaele Vai Ecco Raffaele Il tiro Si va ancora d'oltranza Si va ancora d'oltranza Infinita questa cross barcialle Ecco Carmine Parte Il tiro E quasi la prende Ma è alta Deve tirare ancora Raffaele Raffaele Ecco che parte il tiro Alle stelle Ora ancora Carmine Ora ancora Carmine Il tiro E manco la prende Che va Raffaele Raffaele Il tiro E l'appende ancora una volta Ecco che tira Carmine Vediamo se riuscirà Niente Niente Non finisce più Non finisce più Ecco Carmine Non ce la fa più Ecco Raffaele Ancora la possibilità Per poco Ecco Carmine Parte Alto Ecco va Raffaele Il tiro Niente Ecco Carmine Il tiro Niente Ecco ancora Raffaele Infinita ragazzi Questa cross bar challenge Non la prende per pochissimo Eccolo Carmine Ancora Mamma mia Pensavo che l'aveva presa L'avesse presa Raffaele Ancora Il tiro Ehi Pensavo che l'avesse Eccolo Carmine Ancora Il tiro Eccolo Raffaele Il tiro Alto Ancora Ancora Non finisce più Eccolo Carmine Il tiro E la prende E Carmine vince Ah no 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 Doveva ritirarlo Doveva ritirarlo Se Raffaele Se Raffaele sbaglia Ha vinto Carmine Vediamo la tensione Sugli occhi dell'avversario Il tiro E vince Carmine E vince Carmine Vediamo la sua esultanza E la disperazione di Raffaele E' stata una crossbar challenge Infinita ragazzi Vai Eccoci ragazzi Quindi è finita questa crossbar challenge Molto divertente Abbiamo dovuto cambiare postazione Perché dovevano andare i bambini del calcetto Adesso andiamo nel campo grande Ragazzi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale Mettete un bel like E anche al mio E anche al suo canale I più pazzi del mondo Comunque ragazzi mi raccomando Mettete un bel like Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Raggiungiamo 10 like per la prossima crossbar challenge Ma anche di più Vedi con 10 like Oggi solo me non posso venire